Oggi abbiamo un'importante visita qui nel porto di Città Vecchia, rappresentata dal signor Bodevich. Il dottor Bodevich è qui alla mia destra, ex ministro dei trasporti della Repubblica federale tedesca, negli anni 2000-2002, dal 2000 al 2002, all'epoca del Cancelliere Schöder, e oggi però qui nella veste di coordinatore europeo delle autostrade del mare, che come sapete è un progetto che l'Unione Europea sta portando avanti, un'iniziativa che l'Unione Europea sta portando avanti da qualche anno, di rafforzare i collegamenti marittimi anche in chiave di trasporto delle merci, non soltanto delle persone. E su questo Città Vecchia si sta ponendo nel panorama mediterraneo come un porto leader nello sviluppo delle autostrade del mare e oggi abbiamo un concreto esempio di ulteriore potenzialità di questa linea attraverso la realizzazione di un nuovo pontile all'interno della Darsena Traghetti che collegherà in maniera ancora più importante il nostro porto con il porto di Barcellona. Questo progetto di realizzazione di questa nuova infrastruttura, che è un'infrastruttura importante che prevederà due nuovi accosti, è stato presentato l'anno scorso all'Unione Europea nell'ambito di una call con dei caratteri innovativi perché si trattava di combinare un contributo dell'Unione Europea con un finanziamento di una banca, quindi era un'operazione non facile anche da montare sotto il profilo finanziario. Noi ci siamo riusciti perché abbiamo trovato il pieno sostegno della Banca Europea di Investimenti che ci concederà un finanziamento di 4,8 milioni a cui si aggiunge questo contributo a fondo perduto che l'Unione Europea ci ha riconosciuto dopo aver valutato ovviamente positivamente il progetto. Come sapete la due diligence che fa la Commissione Europea è una due diligence molto precisa, accurata e quindi questo vuol dire che anche la progettazione che è stata fatta di questa iniziativa, di questo progetto, è stata ritenuta meritevole di essere sostenuta finanziariamente e quindi anche dal punto di vista tecnico la votazione è stata molto positiva.